Il bene, gli assalti e altri mevletti è il titolo del programma delle attività estive del Castello Svevo di Cosenza, illustrato nella Sala del Trono del Maniero Federiciano nel corso di una conferenza stampa organizzata congiuntamente da Palazzo dei Bruzi e dalla Svevo SVL, la società di gestione dello storico monumento rappresentata da Giampaolo Calabrese. All'incontro è intervenuto il sindaco Mario Occhiuto, un programma variegato, quello offerto nella suggestiva cornice del Castello, inaugurato dalle performance di Peppe Voltarelli, già andate in scena lo scorso 16 giugno, e dalla esposizione dell'artista Luigia Granata dal titolo dialettale Camminanu Pecusenza. Si proseguirà domani sera con lo show della cantautrice romana Chiara Civello, nell'ambito della dodicesima edizione dell'appuntamento organizzato annualmente dalla Fondazione Lilli per la lotta ai tumori. Il programma inoltre prevede lo spettacolo Rossi in testa di Paolo Rossi in calendario il prossimo 12 luglio. In questa prima fase non mancheranno concerti di musica con alcuni dei maggiori artisti della scena jazzistica internazionale inseriti nella quindicesima edizione del Peperoncino Jazz Festival. Previsti ancora spettacoli di lirica, musica d'autore e teatro, la programmazione del Castello Svevo proseguirà nella seconda parte anche nei mesi di agosto e settembre. Salvatore Bruno per la C News 24.